La prima settimana ospiteremo il campionato mondiale junior che si chiama in termine tecnico World Age Group Competitions dal 20 al 22 settembre. Il campionato mondiale vero e proprio invece sarà dal 27 al 29 settembre. La location è quella della Vitrifrigo Arena quindi assolutamente consolidata perché nel 2021 Esa Tour Group ha organizzato il campionato europeo di aerobica per cui è stato fatto un salto di qualità dal campionato europeo al campionato mondiale. Naturalmente invitiamo tutta la cittadinanza, i botteghini saranno aperti a partire da venerdì 20 alle 9 per tutti i sei giorni di manifestazione. Altrimenti c'è una rivendita online attraverso il sito vivaticket.it Il campionato del mondo di aerobica qui a Pesaro è sicuramente una cosa eccezionale, i paesi sono tantissimi, arriva in un momento particolarmente felice per lo sport italiano dopo le Olimpiadi di Parigi ma soprattutto per la ginnastica. È mai successo di vincere 5 medaglie alle Olimpiadi, passati ormai quasi 100 anni, da quella volta prima della guerra, addirittura della seconda guerra mondiale. Ma soprattutto tutto il nostro movimento, tutta la nostra federazione sta crescendo. Il turismo pesarese ringrazia perché abbiamo portato 750 atleti facenti parte di 38 delegazioni, una destagionalizzazione fino al 29 di settembre studiata a tavolino per coprire il periodo post Fiera di San Nicola. Coloreranno la nostra città, Pesaro si riempie di ginnastica a dimostrazione di quanto sport e cultura sia un binomio vincente. È un grande evento che Pesaro accoglie favorevolmente.